Andrea Pernacchi! Il giorno di ferragosto del 1944, mio papà ha 17 anni e viene convocato in un campo estivo a Ebensee in Austria. Siccome è giovane e bisogna partire prestino prima dell'alba, gli mandano una squadra della polizia politica per prenderlo, tirarlo giù dal letto. Dai, briccone, giù dalle brande! Lo mettono subito in una camionetta per portarlo alla stazione dei treni. Dentro la camionetta ci sono tutti i suoi amici, i suoi compagni della banda dei partigiani. C'è anche Pippo, il traditore, che facendo i loro nomi ha garantito a tutti quella bella vacanza. Mio papà prima se l'era chiesto spesso se anche lui avrebbe partecipato a quei viaggi così esclusivi di cui sentiva spesso parlare che fino a quel momento, ammettiamolo, avevano un po' privilegiato gli ebrei. Per cui è così felice di essere su quel treno che supera anche la delusione di non poter vedere il panorama fino a Ebensee perché è dentro un vagone piombato, però quando arriva Ebensee è proprio all'altezza delle aspettative, delle recensioni. È un posto bellissimo, un bosco, laghi, montagne. Le unità abitative sono perfette per il concentramento, per la concentrazione. 160 dentro una baracca, si fa anche amicizia tutti assieme. Ti danno subito appena arrivi un pigiamone largo, bello, a righe, con un triangolo colorato sul petto così si capisce subito di che squadra sei. Se sei comunista, anarchico, criminale comune, omosessuale, quella gente lì. E così poi puoi fare i giochi di squadra con gli animatori, c'è tanto filo spinato, così ti senti tanto protetto. E gli animatori sono meravigliosi, belli, alti, tutti vestiti di nero, con dei soprannomi simpaticisi. Ci sono il tigre, l'abbattitore, il boia, King Kong, e fanno di tutto per tenerti sempre in movimento. Così non ti annoi mai, non ci si annoia mai a Ebensee, mai, mai, mai. Neanche nei giorni di maltempo, pioggia, neve, che sono la maggioranza. Si gioca, si gioca, si gioca, si gioca. Si gioca all'impiccato, si gioca a scava il tunnel, si gioca a scava la latrina, evita il cane del comandante, attento a non prendere il nermo di bue. Tra l'altro anche nel risultato, si capisce subito chi ha vinto, chi ha perso. Se sei ancora vivo a fine giornata, hai vinto. È proprio un gioco semplice, facile. E anche per quello che riguarda il regime dietetico, ah, una meraviglia, sono strettissimi, lavorano proprio sulla dieta. Anche c'è questa aggiunta particolarmente geniale della dissenteria, che permette di perdere subito peso tantissimo. Mio padre in pochi mesi arriva a 38 chili, quando pensi oggi, quando non riesci a perdere due, non hai volontà, no, sono quelle cose. Pensa, stanno così bene al campo di Ebensee che devono arrivare gli americani nel 45 per tirarli fuori. Io mio padre l'ho conosciuto 25 anni dopo, 30. Però se lo ricordava ancora bene, il campo di concentramento di Ebensee, nome in codice Tsement, dove era morta tanta gente e lui era vivo. E passava la notte a chiedersi perché loro sì e io no. E se lo ricordava talmente bene che non aveva voglia di parlarne, non ne parlava mai. Allora io penso che forse questo è il problema. Che chi poteva, chi aveva qualcosa da dire, non ha parlato, non voleva parlare. E così adesso si trovano a parlare quelli che non ne sa niente, quelli che non dovrebbero. Andréa Pennacchi Pubblicità